Già un'ora dopo la cattura di Messina Denaro, le persone che lo hanno arrestato hanno ripreso il loro lavoro, che è la lotta contro la criminalità organizzata, il servizio per lo Stato. Sono venuto a ringraziarli non solo e non tanto per l'arresto di Denaro, ma soprattutto per il lavoro che fanno ogni giorno, che hanno fatto nei mesi e negli anni precedenti, per il sacrificio con cui lo fanno e per il lavoro fatto dal minuto dopo l'arresto di Messina Denaro. In visita a Palermo, questa mattina, al comando Legione dei Carabinieri di Sicilia, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha omaggiato il lavoro dell'arma al servizio dello Stato, a otto giorni di distanza dalla cattura del boss Matteo Messina Denaro, come riporta oggi Italpress. La mafia ha subito dei colpi molto forti, lo Stato ha avuto molti successi e una lotta continua, ha aggiunto il ministro. Se pensiamo alla battaglia, fin da quando iniziò con Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino, e ripercorriamo gli anni passati, abbiamo avuto successi e la crisi della mafia per i colpi inferti dallo Stato. La lotta continua e sono venuto a ringraziare i Carabinieri per il lavoro svolto. Spostando il focus sugli altri fronti caldi, Crosetto ha anche affrontato il tema dagli aiuti militari all'Ucraina, il futuro decreto allo studio del governo. Per adesso, insieme ai paesi con cui abbiamo deciso di aiutare l'Ucraina, stiamo valutando cosa serve di più. Non soltanto armi, ma aiuti di ogni tipo per superare il periodo invernale e le crisi dovute agli attacchi russi, quindi forniture di generatori e tende. Stiamo preparando anche cose civili, un aiuto concreto da tanti punti di vista, che si formalizzerà nelle prossime settimane, ha spiegato il ministro, ribadendo come non sia stato ancora scritto alcun decreto e che se ne parlerà tra alcune settimane. E sulle parole dei genitori di Giulio Reggeni, che hanno chiesto di smetterla con le finte promesse egiziane e di evitare di considerare quella dell'Egitto come una reale collaborazione, Crosetto ribadisce la compatibilità della pretesa della varietà sulla vicenda del ricercatore italiano morto al Cairo nel 2016 e rapporti con lo Stato nordafricano.